Super Mario Bros. The Lost Levels, conosciuto anche in Giappone con il nome di Super Mario Bros. 2, è il sequel originale di Super Mario Bros. uscito nel 1986 per il Nintendo Entertainment System, detto anche NES, che in Giappone è conosciuto con il nome di Family Computer Disk System. Da noi non è mai arrivata l'edizione originale, ma è arrivata solamente l'edizione remake, inclusa nella Super Mario All Stars, uscita nel 1993 per il Super Nintendo Entertainment System, detto anche SNES. Infatti io andrò a registrare un let's play sull'edizione remake di Super Mario Bros. The Lost Levels, proprio come ho fatto per l'edizione remake di Super Mario Bros., anche se in questo caso è ottenibile da noi europei solamente in questa edizione. Quindi non avevo comunque alternative. Ci vediamo con il primo episodio di questo let's play. Ah, e ricordo che è stato registrato nel mese di ottobre 2017, proprio come il let's play di Super Mario Bros.